Buongiorno a voi, Luca! Ah! Ah! Mamma mia! Cardinale! Che prezzo! Ma voi a chi è andata? Io? A chi è andata? C'è stato un po' di casino per la votazione Ma non sono voci! Eh no! Ma se hai sentito che una votata non faccia tu Mannaggia! Ma come si fa? Ma ora che cosa è fatta? Se sono un po' di casino mi tengo un cellulare Mi tengo un cellulare e ho deciso Mi è andato in giro e mi tengo un cellulare Sono le 4 e 5 Ma ti prendete manco un calazzo? Ehi? Siamo in una chita? No, no, va bene Sono le 4 e 5 4 e 5 Fate il bello ma fa fumare Ho voglio fumare A proposito di fumare è cattata O buona Buona no Anzi non mi stiamo capendo Il tuo braccio ci ha fatto un po' con me Eh che bene proprio Ma lei ha i sette palazze con la Brava Io ho Ma ora chi ha la città? No Ma che non c'è la città? Ma che non c'è la città? Eh bravo Ma tu sei la roba a mangiare? Il stasera Oh A proposito è anche lì anche lì due suore E due suore? Esatto C'è la città Una città Una città Una città Una città C'è mangiare? C'è mangiare? C'è mangiare? C'è mangiare? C'è tanta le sobre andrie Questa città Ah là A me è stato chituo Papa Filippino Bene che sono dei servizi storici eh, bravo, bravo per me si tenne qualcosa da fatto, farà usare il mio papo bradiano non sai che chiama usare non lo so ma è arrivato nel 2010 anche se potessimo usare ma non ha mai dato il discorso ehi, oh, posso fare ma ora il governo del carna d'altro visto la cazzata va a meno pietro facendo sto sparando ma ti lo so hai fatto cosa? no perché questo era la prima sul balcone, stai a gente che mi fece la bacino palazzo ma non ti fa scegliere ma poi c'è il diritto ah, ma non ti fai scegliere ma non ti fai scegliere ma non ti fai scegliere perché le vende per te per te ma non ti fai scegliere ma non ti fai scegliere e che volevo dici, da quale c'è il mio libero? quello che volevo? un certo l'angolino una cosa, una certa... una certa... una cosa che vengono pure la vengono pure, eh? questa è... ma pappi suolo, eh? eh, voi stiamo... no, 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 no... no, che si sta camo, no... che si sta camo, no... che si sta camo, no... che si sta camo, no, che si rupini, paremi... che si sta camo, che gli addi, a vici i mandi, quello che si aspetta? aro, che si sta cam'stano... no, a chi sta camina da cosa di lo pappi suolo, che si! ma sta camionando il mio ederò... o me e lontani? a plastica... ei.... meravigliate... E' un cavolo che mi faccia la chiede, puttana! Ahahahahahah Se non è proprio che la cardina ha un'idea ma fanno un grande pizza ma andiamo a sciccare a coppare, a coppare un bacchone Ci fanno le bottiglie queste per farle a me sciccare E' proprio il fumo per lì per le catenze i buff i buffi faticati, capisci? Ma il cardinano si faceva una stura naturalmente Un cucchiaio, che c'è? Non è che c'è Il cardinano? Per me c'è una città con un po' di sustentamento serve sempre Ma tu sei americano? Sono americano di salicella Hai capito? Devi stare C'è una città Fatima all'uno? Eh no, è il limoncello Ah Perchè il limoncello ha fatto nulla Perchè sono fumato la charcuterie E' il limoncello E' il limoncello Allora, chi ha mai avuto? Ah, ma avuto la charcuterie Ma è quello che ha avuto? Un po' di pizzi Non mi ha mai avuto la charcuterie Ah, non mi ha mai avuto la charcuterie No, è sempre che io devo fare in 18 anni, non mi potrei fare non mi capire Come ti chiamagli il... Come ti chiamagli? Ehi! Filippo Sì, non c'è un casco Pammà, non mi chiamagli il padre Ahahahahah No, ma... Chiamavano il polvere Non lo puoi lasciare un momento che la subito si metta presa qui Ehi! Ah, non c'è sta... Ehi! Ehi! Come ti chiamagli? Eh? Cazzo, la charcuterie Esil dara una cosa Si, scrivi d'ora un po' di cancro poi Alla famma capa, che mi needs to know Metta accanto Beia! Si m'è un po' di cancro Oh, si è un po' di cancro Capisce 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 Capice Capisce 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 E che se tengo colori? Giri E' mi sono giro eeeh Eeeh Se non vedo un pò fumo capito? Si stiamo curando a casa dopo no E' bravo Ah ee, però posso, bravo Viglia alla caffina Eh Visto fanno con Lo fanno un po' Vi stai facendo una cosa No no vi stai proprio bene E via la fonte della ragazzata, eh, io credo… Ah, ma non ti partiamo che gli dicevo non era niente, Cazzo, come te la ragazza eh? E mi dava la fonte. Eh, quindi c'è un luogo la ragazze! E non ne c'è più che capire. Insomma, io, eh, ad esempio ci saranno manati a ciò, ma io cerchiamo come lo ha detto, ma ce la ricetta? Ok, ah, buc'è, c'è un pò, non ti facciamo sì! Eh, ho detto che non mi faceva una buccia. Ah, no, no, non mi fa, no? Grazie a tutti